Siamo con il sindaco di Valmadrera, Antonio Rusconi, e questa intervista prende spunto da un titolo del quotidiano La Provincia di questi giorni, asse di sei comuni del circondario per contare di più. Sono sei comuni intorno a Valmadrera, sul tratto terminale dell'Ario, all'ombra quasi del Monte Barro. Come mai questa iniziativa di sei comuni che si associano, si confrontano, si riuniscono? Adesso è già in corso l'appuntamento settimanale del giovedì. Sì, noi è da alcuni mesi che ci troviamo in comune a Civate, nei prossimi giorni saremo in comune a Malgrate. Cosa voglio dire? C'è l'esigenza che abbiamo imparato col Covid di mettere insieme esperienze e di collaborare. La gente fa fatica, gli imprenditori, i cittadini semplici. Come mai due zone confinanti hanno due destinazioni urbanistiche diverse? Come mai l'Atari è diversa in un comune o nell'altro? Come mai, soprattutto, adesso che stiamo rifacendo gli strumenti urbanistici, non proviamo a ragionare insieme? Devo dire che al di là delle diverse esperienze politiche, da De Capitani a Pescate, a Polti, Bruno Polti a Olivetto, a Polano a Malgrate, a Montanelli a Galbiate, a Isella Angelo a Civate, c'è stima reciproca, c'è amicizia e c'è la volontà per il bene dei nostri cittadini non di fare la grande lecco, ma di ragionare insieme per il bene dei nostri cittadini e dei nostri comuni. Ecco, il sindaco Rusconi si è già richiamato alla grande lecco perché qualcuno ha paragonato questa aggregazione a una grande lecco minore sull'altra sponda del lago rispetto a quella che è stata la nascita della grande lecco proprio cent'anni fa perché la prima iniziativa risale al 1921-22 e diventerà tale tra il 1924 e il 1928. Sì, io penso che il comune di Lecco e il sindaco di Lecco parli direttamente con le istituzioni che sono la provincia, la regione, i ministeri, la comunità montana. Io penso che noi come sei comuni possiamo insieme avere più forza e rivendicare alcune posizioni che sono tipiche del nostro territorio. C'è la volontà, proprio partendo da un'amicizia comune, di ragionare insieme e di fare progetti e proposte insieme, ad esempio la provincia, ad esempio la comunità montana, ad esempio proprio partendo, visto che siamo sul lago, da un piano turistico al lago cioè pescate rispetto a galbiate, rispetto che prosegue a un tratto proprio di lago lì, rispetto a Malgrate, rispetto a Valmadrera, rispetto poi a collegarsi con civate e galbiate al lago di Oggiono. C'è l'esigenza ad esempio di fare un progetto unico che è già stato dato in carico per una pista ciclopedonale che parte da Oggiono e arriva a Lecco. Questo è un tipico esempio di cosa voglia dire ragionare insieme. Questa pista ciclopedonale da Oggiono sino a Lecco, quindi anche in un territorio che va oltre questa mini aggregazione dei sei comuni poc'anzi ricordati. Sì, noi non siamo assolutamente contro Lecco, anzi dobbiamo trovare delle sintesi da proporre alla città di Lecco. Quest'idea di un'unica ciclopedonale, che tra l'altro per noi valmadreresi vuol dire la rocca, vuol dire la rocca in alcuni tratti a sbalzo, a cui è stato dato già un incarico a un professionista, io penso sia molto importante, tutti parlano di turismo, io penso che bisogna fare delle azioni, dei gesti concreti, dei progetti finanziarli e realizzarli. Ecco, la rocca di Parè, che io chiamo di Parè perché so che è divisa tra Malgrate e Valmadrera, è stata al centro di un'intervista dell'autunno scorso del sindaco Rusconi quando ha lanciato la novità, l'idea sconosciuta di fare questo grande balcone panoramico sul tratto terminale dell'Ario Manzoniano, un'idea che ha entusiasmato l'opinione pubblica e interessa tuttora. Si sono fatti dei passi avanti per questa bellissima iniziativa? Allora, anzitutto c'è un incarico finanziato a un professionista per il progetto preliminare. Ci sono stati i primi incontri con la sovrintendenza rispetto al progetto preliminare e ci sono i primi 500 mila euro per la messa in sicurezza del primo tratto della rocca che comprende già dove sarà posizionata la pista ciclopedonale. Noi in questo momento abbiamo una disponibilità di avanzo e bilancio di circa 6 milioni di euro. Sicuramente questo progetto, insieme alla caserma e ai carabinieri dei Vigili del Fuoco, è delle priorità del nostro comune. Per il potenziamento turistico sull'ario, sul lago complessivamente, si è parlato ripetutamente, anche ultimamente, di un potenziamento del servizio di traffico, la quale della navigazione. È stato fatto qualche passo avanti? È stato fatto un piccolo passo avanti, ma se io rileggo tutti i dati dal 2011 in avanti, non ci sono molte corse in più, anzi. Quindi è un piccolo, significativo passo in avanti. Noi non vogliamo, è inutile parlare di turismo a Lecco e nelle Chese, e poi, ad esempio, sul tema della navigazione, rimanere i cugini poveri di Como. È un problema politico che, se siamo uniti, penso a tutti i comuni che stanno sul lago, siamo significativi, non dobbiamo fare tutte le stesse cose. Se rimaniamo ogni comune per conto suo, diventiamo insignificanti. L'ultima domanda riguarda un fenomeno di carattere locale e nazionale. In questi giorni, quattro sindaci del territorio, da Mandello a Pescate, hanno dato vita a una nuova formazione definita civica, di orientamento verso il centro-destra, fenomeno che è avvenuto anche per altre aggregazioni e piccole formazioni politiche. Siamo a un segno di decomposizione del vecchio quadro politico e partitico o in avanguardia di un nuovo schieramento politico nazionale, di un nuovo ampio, diverso, visto anche le novità recentissime di queste ore in sede romana. Ma io non commento il dato locale, anche perché ho già i miei guai, quindi me ne guardo bene. Conosco bene questi sindaci, ho un buon rapporto con loro anche di stima e di collaborazione. Mi permetto, per l'esperienza che ho avuto in passato, di fare una riflessione a livello nazionale. Oggi c'è una domanda di politica che è impersonificata dal governo Draghi, che ha un consenso superiore al 50%, dove non c'è un'offerta di politica. E questa è responsabilità nostra. Nel senso che penso che gli italiani, che andranno a votare tra un anno, rispetto a una prospettiva, anche in Europa, di avere una guida del governo affidato alla Meloni che è anti-europeista, o una guida del governo affidata e condizionata da Conte, io penso che gli italiani non siano tutti così d'accordo e si pongano il problema a cui oggi la politica non sta rispondendo, cioè di un'offerta riformista, una volta si sarebbe detto centrista, che intercetti quello che il governo Draghi ha fatto, secondo me, più che discretamente in questo anno. Grazie di queste dichiarazioni, allora risentirci presto per questo tavolo di lavoro che avviene una volta al mese, se non sbaglio, ogni giovedì, da parte di questi sei comuni che hanno dato vita a questa singolare iniziativa, singolare non troppo perché bene o male qualcosa copia nel tempo passato, il che porta a dire che la storia è monotona perché presto o tardi si ripete. Sì, presto o tardi presenta i conti. Grazie a voi, grazie a disponibilità e della simpatia.